Musica Dopo lo straordinario incontro con il maestro Zubin Meta, il Teatro Petrarca di Arezzo ospita il secondo appuntamento della stagione concertistica, in questo caso protagonista l'orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova e la soprano Claudia Muschio, diretti dal maestro Enrico Onofri nel tradizionale concerto di Natale. Per noi è una grande emozione essere qui in una città d'arte di incommensurabile bellezza come è Arezzo, in un teatro storico meraviglioso come il Teatro Petrarca, un teatro all'italiana con una meravigliosa acustica. Il mio ringraziamento a nome di tutti i lavoratori del Carlo Felice, del sindaco di Genova Buccia e del presidente della regione Toti va innanzitutto al comune di Arezzo, al suo sindaco Ghinelli e alla fondazione Guido d'Arezzo nella persona di Cinatti, che è il direttore generale, per questo invito. Formulo l'auspicio che questa collaborazione possa prolungarsi nel tempo perché ci sentiamo molto impegnati nella valorizzazione della musica, della bellezza, specialmente nei confronti delle nuove generazioni che so essere, le nuove generazioni, un motivo di grande attenzione per questa città che sta investendo molto nella direzione dell'arte e della cultura per far risplendere il nome di Arezzo nel mondo e anche quello dell'Italia.